Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo una maglia retro, ancora una volta, e mi accorgo purtroppo di essere un po' monotono, devo cambiare, del Real Madrid. Questa ovviamente è la prima della stagione 2010-2011. La maglia di chi se non di Ronaldo. La maglia di chi si non mi accorgo purtroppo di essere un po' monotono. Maglia niente male, in base alla tradizione ovviamente è una maglia bianca, questa volta con queste rifiniture in blu, in particolare questa manica fatta in questo modo, non mi dispiace. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e quali altre maglie vorreste vedere. Il costo, l'avete visto, molto buono, tra l'altro la spedizione è stata velocissima, questa è arrivata in 20 giorni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quali altre maglie volete vedere e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale. Ora vi lascio la parte finale, per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!